Ciao a tutti, eccoci qua in prossimità del ponte tibetano, quindi adesso andiamo a fare l'attraversamento. Credo che molleggeremo un po'. Ovviamente c'è un bellissimo panorama, andiamo a far vedere qualcosa, e la città di Matera, ok, adesso andiamo. Dal ponte tibetano del Parco della Murgia, Materana e Elvio per il blog Spiragli di Luce.